Allora, i panni si lavano in tribunale, ok? I panni sporchi si lavano in tribunale, esistono gli avvocati, è vero che l'avvocato ti porta anche su delle cattive strade, cioè, allora, ci sono avvocati e avvocati, di avvocati ce ne sono tantissimi, c'è una concorrenza enorme, quindi devi scegliere un professionista valido. Io ti sconsiglio di andare da amici, pseudo amici, devi andare da una persona esterna, fuori da quel sistema relazionale, tra l'altro deve essere un valido motivo, cioè, allora, o sei molto ricco, io feci un video anche su questo, sei ricco, hai i soldi, uno ti pesta il piede e gli fai causa, ok? Ci sta, cioè, il diritto di legge ce l'ha poi alla fine che hai i soldi, come lo so, è un mercato e l'avvocatura è un mercato, quindi tu sei disposto a pagare, tra l'altro prende un avvocato d'ufficio, tra l'altro sono avvocati, secondo me, un po' alle prime armi, poi magari sono persone validissime, trovi un avvocato e vinci la causa, però è anche vero che per avere diritto l'avvocato d'ufficio devi avere un sacco di requisiti, devono essere cose molto gravi e via dicendo, no? Poi voglio dire, secondo me, intasare un'aula di tribunale per un futile motivo, perché uno ti ha dato, capito, uno schiaffo, è una cosa, secondo me, che non ha senso, non ha ragione d'essere, capito? Anche sulla, io ti querelo, ma, lascia stare, dai. Allora, parliamo di cose serie, però, quando vengono calpestati i tuoi diritti, no? Ok? Anche io ho dei contenziosi aperti con delle persone, perché sono stati calpestati i miei diritti, ok? All'interno del mio nucleo familiare, questo lo dico, purtroppo se ascoltano questo video godo, così almeno capiscono le persone che devono capire. Sono successi dei problemi, ok? Questi problemi sono anche di natura economica, però a me, i soldi, siccome che io ho sempre vissuto con niente, e lo sapete, perché prendo il reddito di cittadinanza, io so vivere nella miseria più totale. Non mi interessano i soldi. Sai però cosa mi interessa? Mi interessa avere giustizia. Sai perché? Perché siccome quando ti negano i soldi e negono i tuoi diritti, perché i soldi rappresentano dei diritti, soprattutto all'interno di un nucleo familiare, vuol dire che costruiscono dei teoremi, no? Per mettertela in quel posto. Costruiscono dei teoremi, cioè teorizzano il nulla. Ecco, siccome che le favole non esistono a questo mondo, ecco lì che serve l'avvocato. Ecco lì. Perché farsi prendere per il diretano, no? A volte non ci sta, a volte serve l'avvocato, e l'avvocato difende i deboli. Quindi viva l'avvocatura italiana.